Buongiorno, buongiorno, con la tuta dei vinti che vi do il buongiorno oggi perché le abbiamo vinti, quello che era stato definito l'imbattibile Paris Saint Germain e dei vermi che quando si vince è merito di Pioli, quando si perde la Rosa è scarsa invece io no, ho detto bravo Pioli perché ha applicato tutte le cose per cui ti abbiamo criticato nel tempo col Paris Saint Germain quindi ho detto bravo Pioli, però la dimostrazione è che la Rosa di base è già forte la squadra è forte, non è l'Inter, non è il Real Madrid, non è il Manchester City ma la squadra è forte, c'è e questo non giustifica, anzi aumenta il supplizio di non aver vinto contro l'Udinese ora però arriva il Lecce e il Lecce è la prova di maturità è proprio l'esame di maturità, avete presente l'esame di maturità della scuola? quando si finiscono le scuole si fa l'esame di maturità per vedere se si è pronti a terminare un ciclo di studi ed avviarsi verso o l'università o il mondo del lavoro questa è la prova di maturità del Milan di Pioli che non è più il Milan dello Scudetto quando si parla di Pioli ha vinto lo Scudetto grazie, ok, ma non è più quel Milan il Milan dello Scudetto non c'è più ma non perché non c'è più nella Rosa perché il viaggio, il percorso di una squadra la maturazione è andata avanti adesso il Milan deve fare quello step ulteriore per dimostrare che quello Scudetto non sia stato frutto di casualità perché l'anno scorso questo hai dimostrato arrivando quinto sul campo e quest'anno devi sconfessare quella cosa hai fatto un mercato idoneo per sconfessare quella cosa quindi per me il Milan di oggi è più forte anche nella Rosa di quello del Scudetto forse è un Ibrahimovic in meno però ha una solidità sugli esterni e sul centro campo superiore per quanto mi riguarda adesso arriva la prova di maturità perché col Paris Saint Germain, l'avevo detto prima della partita sono quelle partite dove c'è un clima a San Siro incandescente per il quale non puoi mai fare una prestazione schifosa pessima, vergognosa come Milan Udinese ma sei chiamato a tirar fuori il meglio di te stesso i giocatori hanno tirato fuori il meglio di se stesso e anche Pioli ripeto, è inutile fare i talebani e dire Pioli no, anche Pioli ha tirato fuori il meglio di se stesso schierando l'undici migliore facendo i cambi giusti al momento giusto chi dice Pulisic si doveva infortunare dice puttanate, vi spiego perché in determinate partite tu devi intervenire nel momento giusto ora, lui non voleva toccare determinati punti della formazione forse Pulisic poteva togliere 10 minuti prima ok, sono d'accordo con voi però i cambi sono stati giusti secondo me col Paris Saint Germain ora arriva il Lecce e qua si tasta il terreno se tu hai superato o meno la crisi di ottobre perché il Lecce innanzitutto non ti lascerà gli spazi che ti lascia il Paris Saint Germain ma al di là di come si comporterà il tuo avversario tu devi dimostrare di aver ritrovato umiltà di aver rimesso i piedi per terra di non inventare ruoli di non inventare il terzino che fa il regista cose semplici perché col Paris Saint Germain si è vinto facendo le cose più elementari del gioco del calcio le sovrapposizioni dei terzini i cross dal fondo le triangolazioni centrali per mandare in porta il centrocampista che si inserisce le cose più semplici del gioco del calcio perché quando una rosa è forte ma tu cerchi di farla rendere come fosse il City è lì di cadi perché non sei il City non sei il City non hai gli interpreti per fare determinate invenzioni dal gioco del calcio non lo puoi fare la rosa non è il City e Pioli non è Guardiola devi fare cose semplici ogni tanto puoi provare a fare qualcosa ma non inventarti il terzino regista il terzino attaccante il terzino deve fare il terzino aiutare gli esterni offensivi quando vengono duplicati e triplicati nella marcatura portando via l'uomo con la sovrapposizione elementare robe che fanno alle scuole calcio e che il Milan aveva smesso completamente di fare che ripeto quando la squadra è in forma in palla il momento è positivo vengono fuori partite come Milan-Torino però avete visto il Torino quanta difficoltà sta facendo in questa stagione già a Bologna il Milan giocò bene ma il Bologna creò tanto quindi fu il Bologna a sprecare tanto in quella partita perché altrimenti anche a Bologna si rischiava di uscire senza il bottino pieno per quando il Milan giocasse un calcio migliore poi al derby è successo quello che è successo e dal derby è inutile che mi dite che il Milan dopo il derby si è ripreso il Milan dopo il derby fa una partita di grinta con il Newcastle dove crea tantissimo ma non vince e poi alla fine è stato deciso Milano sul piano del gioco il Milan era sparito il Milan non giocava a calcio ragazzi fino al punto più basso contro l'Udinese dove veramente è stato lo schifo dello schifo dello schifo dello schifo avrebbero per quanto mi riguarda dovuto rimborsare i biglietti a chi ha speso dei soldi per vedere Milan-Udinese perché ha visto Udinese-Udinese non c'era il Milan in quella partita e qualcuno addirittura si è attaccato alle occasioni nei minuti di recupero cioè per difendere l'indifendibile ci si attacca alla Rosa ad aver creato qualcosa nel recupero con l'Udinese e ci mancherebbe che non crei bank niente con l'Udinese poi col Paris Saint Germain fai una partita di carattere una partita da Milan perché per me il Milan è quello è quello di Milan-Paris Saint Germain ora io lascio libera interpretazione sugli interpreti per quanto mi riguarda il 4-2-3-1 è il modulo col quale il Milan gioca meglio a calcio non metterei Krumic però se Piole ha questo feticio lasciamoglielo passare ma a me non interessa tanto chi gioca mi interessa come gioca il Milan il Milan deve avere delle delle fasi offensive nella partita poi parliamo della fase difensiva che per me neanche col Paris Saint Germain ne ha funzionato però diciamo che se col Paris Saint Germain si è riuscito a prendere solo un gol da palla inattiva va pure bene anche se Piole ha sbagliato però in fase offensive il Milan deve avere delle alternative il Milan non può essere cross dalla tre quarti e palla al difensore perché quello è uno schifo quindi vediamo con Lecce perché con Lecce capiamo se la rondine fa primavera o non fa primavera perché col Paris Saint Germain ripeto la partita può essere vista un po' come una partita a sé ora con Lecce vai in campo e la partita ti dice tanto ma attenzione il bonus a stanchezza non è concesso cioè il fatto poi di dire se pareggiamo a Lecce perdiamo a Lecce ma eravamo stanchi abbiamo dato tutto col Paris Saint Germain che è quello che diranno poi perché se il Milan non misce a Lecce diranno quello non mi sta bene perché abbiamo un obiettivo da perseguire in campionato che è quello di lottare per lo scudetto o quantomeno di andare agevolmente in Champions League diciamo così e se tu perdi con l'Udinese la settimana prima il bonus a stanchezza io non te lo concedo tu a Lecce vai e fai i tre punti che hai perso con l'Udinese perché se avessi vinto con l'Udinese potevo anche concederti un pareggio a Lecce stavolta no perché tu col Napoli non hai vinto con la Juventus non hai vinto con l'Udinese non hai vinto due su tre le hai persi con Paris Saint-Germain l'andate piete tre palloni le avete fatti passare per imbattibili quattro imbattibili non sono Ugarte sembra Vinista Ugarte è Ugarte punto adesso a Lecce devi vincere la partita punto non ce n'è la devi vincere magari posso concedere un po' di sofferenza nel secondo tempo infatti credo che il primo tempo di Lecce e Milan sarà molto importante per il Milan perché se il primo tempo già vai sotto o pareggi diventa difficile ribaltarla perché poi nel pratico è vero che le forze fisiche sono state spese con il Paris Saint-Germain ma tu devi preparare una partita per la quale devi cercare di portartela a casa nei primi 60 minuti e di controllarla negli ultimi 30 l'allenatore deve essere un valore aggiunto da quel punto di vista soprattutto se guadagna quasi 5 milioni l'anno deve saper preparare una partita come Lecce post Champions League e sapere in quanti minuti il Milan può effettivamente vincerla che poi i minuti sono 90 ma se tu sai di avere un'autonomia di 60 devi concentrarti sui primi 45 è la verità è questo la fase difensiva basta stare un po' accorti perché loro non sono il Paris Saint-Germain ma a Lecce devi vincere se a Lecce vinci fai una prova di maturità e poi ripeto ci sono queste partite come il Milan Paris Saint-Germain che possono cambiare l'esito di una stagione guardate l'Inter l'anno scorso col Barcellona vince con la partita veniva da un periodo di crisi poi è chiaro nella stagione qualcosina lascia ancora per strada però poi vai in finale di Champions che non è un titolo però è un percorso quindi è la partita chiave è una partita sliding doors della stagione fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi al canale se siete iscritti attivate la campanellina delle notifiche mettete mi piace al video condividetelo non lo dico tanto per dire lo dovete condividere avrete i gruppi con i milanisti i gruppi del fan da calcio condividete date Luca Cohen cosa pensa di Lecce e Milan e di Milan Paris Saint-Germain forza Milan grazie a tutti